Ciao, sono Roberta Carrer e nel 2022 ho seguito il Master in Progettazione della Comunicazione Digitale presso l'Università degli Studi di Torino. Ho scelto questo Master perché stavo cercando un percorso di studi che potesse aiutarmi a entrare in maniera più verticale nel mondo del lavoro e crearmi una formazione più completa a 360 gradi e che fosse molto più pratica che non teorica. Ed è questo che ho trovato in questo Master, sia da conoscenze di programmazione e user experience design che di comunicazione, social media e tutto quello che è professionalizzante nel ruolo della comunicazione. Adesso lavoro come Art Director in App09, un'agenzia di comunicazione sita in Torino. Il valore aggiunto di questo Master è stato sicuramente la possibilità di studiare delle materie dal punto di vista più professionale e meno accademico e poter mettere subito le mani in pasta nelle materie che andavamo a studiare man mano e soprattutto il fatto che fosse un Master che si poteva, anche se con molta difficoltà, portare avanti durante anche un percorso lavorativo come formazione personale, come upgrade delle proprie skill.